E qua a un'altra puntata improvvisata di Assassin's Creed Revelation Multiplayer sono riuscito a trovare un'altra partita, non mi sembra vero miei cari, non mi sembra vero questa volta faremo assalto al manufatto io non sono il tipo da rubare i manufatti e vedo che stiamo già perdendo ok, uno è questo mettiamo una... tanto carissimi, o vingo, o perdo l'importante è che vi faccio contendere con un'altra puntata non sono il tipo da rubare gli manufatti, quindi questa volta non li ruberò uno è di qua ciao caro sono con un altro dei miei personaggi preferiti, il Diacono perché assomiglia molto a Ezio Auditore, il mio assassino preferito di tutta la serie ovviamente, sì carissimi, il mio assassino preferito, non ve l'ho detto nelle altre puntate è Ezio Auditore e vabbè non prende, l'importante è fare una nuova puntata o vingo, o vingo, o perdo, non mi importa, mi cari, perché tanto... dov'è? eccolo, sì è questo ciao caro recuperiamo subito perfetto quando si ricarica metterò un'altra bomba a cavo cosa è una bomba a cavo? che quando viene il nemico, ma mi pare che l'ho fatto vedere nella scorsa puntata viene il nemico ed esplode oh, che cacchio di nome allora, appostiamoci qua e aspettiamo che... anzi, aspetta dice che qui c'è... no, bello non uccidere il mio mi dispiace che l'ho potuto farvi vedere tutta la puntata ehi, ciao, bello meno male ti ho messo la bomba a cavo ecco, prego avrei voluto farvi vedere l'inizio, però sono arrivato adesso come avete voluto ben vedere o se non l'avete visto, lo dico adesso dai questo tizio, il mio carico, il mio compagno ha il manufattio e devo difenderlo per non spingere Canubis è una dignità ediziana ho anche la pistola e la vorrei usare prima che finisci il tempo stavo per farcela sparare porca zonza comunque, sembra che finisci in pareggio se non sbaglio quindi direi che è un nulla host, un nulla rifatto che dire andando guardate come assomiglia il suo auditore, il nostro caro diacono vediamo se riesco a trovare un'altra partita oppure il video finisce qui vediamo un pochino e vabbè chissà come andrà, i miei cari piazziamo sempre bomba al cavo intanto c'è obus come cacchio si chiama digi incredibile come c'è fatto? prova ad aspettarlo qua cari ma sbaglio c'è molto lag direi che c'è un sacco di lag carissime ma io non ho capito cioè era lì carissimi 5 secondi fa e adesso si trova là sotto eh beh cari io non me la rischio anche perché non ho non ho abilità difensive eh ti spaventavi eh io non ho capito il nemico mi ha rubato il manufatto oh il nemico ha fatto cadere ilましょう il tuo alleato ha rubato un manufatto Il nostro manufatto è tornato a base. Scappa presto. Perché non me l'ha fatto uccidere? Non te lo fa uccidere, scappa. Ora segni il seguitore. Il nevico ha segnato. Non ci capisco un cacchio, carissime. Vieni, 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 bello. Ciao. Vediamo se è lui. Non c'è nulla. Vai, vengo ad aiutarti. Vengo ad aiutarti. Resisti. Ok, sono rimasti in tre i nemici. Quindi direi a meno di provarci, a meno assordirli. Anzi, in realtà qui non scorto al tizio. Vai, ce la puoi fare. Adesso io non dico nulla. O vincevamo o perdiamo. È sempre stata una bella partita. Ha insegnato. Il manufattore vengo è tornato alla base. Questa non ce l'ha fatta. Intanto direi di piazzare una... Vale. Direi di piazzare una bomba a cavo proprio qui. Perché, diciamo che, teoricamente, serve assai. Faffanck, mi fai schifo. Sembra uno di quei bimbi vincchia che spammano. Il manufattore vengo è tornato alla base. Poverino Darkseid. Dai, muscoloso cavaliere, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Manca solo... Il tuo alleato è rubato il manufattore vengo. Eccolo là. Il bastardo vivente. Il bastardo fatto gerusico. Ora sei una prega. No, lascio stare. Ora sei un inseguitore. No, cosa cacchio sto facendo? Hai insegnato. Il manufattore vengo è tornato alla base. Muoviti. Il tuo alleato è rubato il manufattore vengo. Muoviti, cavaliere. Il nemico vi ha rubato il manufatto. Il vostro manufatto è tornato alla base. Eh, baffango. Dai, ti faccio da cavaliere. Ti proteggo. Hai insegnato. Sei al comando. Incredibile. Il manufatto nemico è tornato alla base. Come al solito piazziamo una bomba a cavo di qua. Il coro giustamente ha capito tutto. E giustamente se ne va dice no, non mi faccio ammazzare. Non so cosa sta facendo questo... Ah, si trattasporta qua avanti. E giustamente è tornato alla base. Ragazzi, è finito. Cioè, scusa, non si è teletrasportato. Mistero. Per il simio provo ad andare all'attacco. Proviamoci. Ecco, hanno già ammazzato. Vengo ad aiutare. Grande. No. Non so come... Ciao. Ancora solo in delirio. Mi stava per uccidere. Sabe, per uccisione da sforgenza, carissimo. Uccisione da sforgenza vi dà una marea di punti. Non so come è riuscito a non ucciderli. Cioè, un like per la quasi uccisione, ma anzi, uccisione non riuscita. Povero, hashtag povero cerusico. Ma non avevo messo la bomba a cavo? Il tuo alleato è rubato 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 il tuo alleato ma fancoppa il pugno della discordia altro voglio cosa cazzo ha fatto c'è carissimo sono andato senza abilità gli ho storditi senza abilità magico gioco adesso andiamo a prendere quel besmir di merda che si sta facendo tutta la minimappa ciao bello carissimi direi che abbiamo vinto anzi li abbiamo proprio stracciati e vabbè tanto abbiamo vinto ciao caro e vince carissimi siamo partiti svantaggiati comunque questa altra puntata di assassin grid revelation multiplayer finisce qui non è mai stato ucciso incredibile sono uscito a fare due stordimenti senza abilità cari senza abilità quindi il like è d'obbligo sapete la sotto a piena strocca io direi di lasciare almeno un commento e un like in onore del grande cavaliere il cavaliere cazzuto il più grande cavaliere proprio incredibile un like proprio il cavaliere cioè anche lui come celusi che ha uno stile di vita perciò dal vostro amatissimo direi che è tutto giocare gamer e ricordate se avete dei problemi chiamate il cavaliere speriamo che il video vi è piaciuto e se vi è piaciuto lasciate commentate e tanti like e condividete e se volete andate a iscrivervi al canale di twitch oppure su twitch twitch pure twitch oppure su un cazzo che chiamano l'aspetto che non vi viene in mente a instagram oppure seguiteci ancora oppure sul canale unico chiamato canale di giocare 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 giocare